grande moto scacco ok senza il potere dei due secondi ok christian a questo punto starà starà esultando come un matto e quindi va rimesso al suo posto assolutamente questo stone wall a colori invertiti ok un attacco stonewellino attacco stonewellino e qui mi sa che mi mazzola qui mazzola me lo sento Ok, bisogna essere più veloci sul finale, mi addormento Ok, cavalle 8, cambio questi alfieri Dobbiamo cercare di cambiare il prima possibile tutto Perché sento già l'odore delle mazzate E quindi niente, facciamo così Facciamo una sorta di... No, cazzo, la cazzo non si può giocare, è veramente pessima Ok, G4, G5 arriverà sicuramente Ok, prima C3 perché sennò C4 avrebbe guadagnato un pezzo Penso molto difficile da affrontare questa posizione per lui Ok, la presa in D4 non dovrebbe... Sto già male A meno che non riesca a fare cose... Non è male Un po' strana, però... Secondo me... Che cosa fa la donna lì? Niente Semplicemente niente E ora... Attaccherò... Cavalluccio... Cavalluccio, cavalluccio... Bah, non lo so, mi aspetto il mega attaccone Me lo attendo già, ma proprio di bestia Ma proprio di bestia Ok, cavallo D6 G4 G5 Why not? Apriamo qualche... Qualche linea sul suo re Cavallo G5 Molto... Molto aggressivo Questo setup per il bianco Ok, l'unica cosa che ci manca È portare un pezzo pesante sulla colonna H Credo di farlo con donna F2 Donna H4 Subito, il prima possibile Devo giocare questa E giocare al fiere D7 Per raddoppiare le torri Sulla colonna H Ok, importantissimo questa Lui c'ha... Eccolo che ti arriva qui Fra poco Se ti arriva qui È un problema È un problema perché può fare Vari sacrifice A meno che io non blocco tutto Ora qui così Se blocco tutto Troppo esposta Quindi arrocco lungo E lo vado a mettere Di qua Nell'angolino Dove stare al sicuro Per un po' Ok, raddoppiare sulla H È un po' strano perché Ho tanti pezzi che difendono quel pedone Ora giocherò a H5 Apriamo qualche altra Piccola linea Ok Cavallo per E4 Attenzione F6 in arrivo F6 in arrivo Però c'è questa Anche questa C'era il mondo C'era Ora c'è questa Questa non va bene affatto Eh niente È andata È andata È andata È andata È andata abbastanza Questa partita Così Minacciatore G7 Cavallo di 2 Non ha molto senso Ora Ok Torre G7 Re 8 H7 Abbiamo combattuto In modo valoroso Fino alla fine Va bene Va bene Va bene Attenzione Spareggione 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 Questa nuova Variante Segreta G5 Che basta Va bene Va bene Non te lo prenderò mai Quel pedone Sappiro Ma sappiro Che non te lo prenderò Ma neanche Neanche morto Giochiamo così Ma proprio scorda Te lo devi scordare Niente Non ha voluto Saperne di mangiare Quel pedone Un fifone Ok Proviamo di 6 Diamo un'altra possibilità Di mangiarselo Fifone ma va bene Contro il vannone Si può Alfiere g2 Cavallo g2 E' una buona Risposta Adesso c'è Donna b6 Sul serio Però Donna b6 Sul serio Mi costringe A spingere Cavallo Minaccio Il pedone D4 Quindi dovrà fare Alfiere e3 Per difenderlo Dal suo alfiere e3 Arrivano brutte notizie Per lui E adesso c'ha questa C'ha esatto Perso l'arrocco Pessima 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 Donna d2 Su donna b6 Ok Finiamo lo sviluppo Dei pezzi Adesso alfiere g2 Sarà una delle sue Prossime mosse Probabilmente Perché Tenere Quell'alfiere In Il pedone Che è lì Impreso Dalla notte Dei tempi A Rocco Lungo Sa che non lo farei Una di quelle mosse Che Che non farei Te Mosse Sane Ok La torre in g2 E' veramente Veramente brutta Però magari Troverà Qualcosa da farle fare Donna 5 Faccio l'arroccone Manuale Attenzione Che Mi sa che arrocca lui Adesso c'è Arriva questa Che Non credo sia un problema Solo questa Fatemi fare La Rocco Manuale Ragà Ok Trasferiamoci di qua Io voglio Solo Attaccare Il suo re Quindi Ovunque Egli vada Io sarò lì Con i ton F5 Magari Cavallo G4 Magari H5 H5 H4 Someday Però Si fa veramente Ancora più Debole Quel pedone Però ho bisogno Ho bisogno Del cavallo Lì A meno che Ora io non Spingessi Spingi Di pedone Minaccia Minaccia sia il doppio In B3 Che il pedone In C4 Unpleasant To meet Ok B3 Previene questa cosa Quindi è abbastanza È abbastanza buona Per il resto Va bene Torre qui Per rafforzare Questo punto Dopo che Eventualmente Mi cangia Mi cangia Qui Ok Inchiodatura Vabbè G1 Se non la fa Adesso La farò Una mosso Dopo Inchiodatura Mi fa paura Questa inchiodatura Credo di no Credo di no Ma Prima di dirlo Prima di dirlo Dovrei Ok Cavallo G4 Iniziamo a Mettere carne Sul fuoco Pronti a spingere No In realtà Non spingiamo Mai Non spingere Non glielo permetteremo Mai Una cosa di questo tipo Mai e poi mai Mi sa che Anche questa La perdo per il tempo Anche questa Alla fine Dei conti Ok Alfiere c1 Vado avanti con e5 Anche F3 Che va Alla f6 Potrebbe salvarmi La pellaccia Se 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 devo avere La fortuna Che ho avuto Nelle precedenti Partite Probabilmente Mi interpolerà La donna In qualche modo Incredibile In h3 Speriamo di nuova Ok Questo lo posso mangiare Tanto minaccio Anche la torre Ok Minaccio al pedale in d6 Ma non è Non è un gran problema Che Entrambi gli schieramenti Premove Cazzarola Va bene così Va bene così Non va bene Non va bene niente In realtà Ok Ehm Bene 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 così La remuntada Grande Vanni Colpisce ancora Nel segno Alla prossima Ha risfidato ancora Ha risfidato ancora Era d'accordo per 5 partite Ma mi ha riculato E quindi E quindi niente Ce la giocheremo No Cavallo f6 Questo sacrificio di pedone Molto molto promettente Nalfiere g4 Nalfiere g4 H3 Ok Nalfiere h5 È buona Devo soltanto ricordarmi Cosa Bisogna fare G4 Forse E cavallo e5 Subito Forse proprio così Ma che dubolso Sto cavallo Veramente una spina Nel fianco O da qualche altra parte La spinta È cattiva Eh La spinta Mi obbliga a giocare a 6 E c5 Mi sembra Troppo Ambiziosa Decisamente troppo ambiziosa Decisamente troppo ambiziosa Ok Inizierei con alfiere g2 Minacciando alfiere per b7 Uo Ma cazzarola C'è questa Che È un problema È un problema Alfiere qui Ho tolto alfiere da qui Mi attacca qui Donna Non so cosa può fare qua Probabilmente io fosse lui Giocherei cavallo d7 E fregandomene del pedone b7 Cercando di recuperare un po' di iniziativa Però ci sta anche Cercare di Tenere il pedone in più Ok Su donna c8 Penso che h4 Sia molto forte Vediamo cosa Cosa intenzione di fare Su questo h4 Ok H5 Va bene Però L'indebolimento Che si crea dopo Dopo cavallo Che si creerà Ok Faremo questa Tutta la vita Premove Oddio Che brutta Che brutta La cattura sull'alfiere Una di quelle catture Che Che non vorresti Che ti facessero mai E poi mai Ok Giochiamo così Al fiore 4 Bombardiamo un po' Quel punto in 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 g6 E' devastante la cosa Ok così Così gli metto La donna in gioco Ok Te lo devo far fare Non ho altre Avrei potuto giocare Questa Perché non ho giocato Questa Su donna lì Cosa sarebbe accaduto Ok Mamma mia Adesso Mi becco il matto No mi arrendo Mi arrendo Questa è veramente È veramente Brutta 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 Vediamo se il Vanni Richiederà la rivincita L'ennesima Cambiamo di 5 Il cilindro Questa volta Ok Ah Tra l'altro Prima Stava Stava spiegando Le mosse Ecco perché ci metteva tanto Se io gioco E basta Christian è veramente Un repertorio Da rivoluzionare Completamente Che è una noia mortale Quando si gioca con lui Con donna b3 anche Cavallo e5 Queste queste trappoline Che io non conosco Vabbè ma senti Facciamo il per f5 Vediamo cosa succede Donna b3 Probabilmente È la sua mossa preferita Quindi la giocherà Infatti Vabbè Noi giochiamo Solo per l'iniziativa A questo punto Ok 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 Non so quanto sia buono Onestamente Ma la faccio La faccio Torre qui Ci sono un po' di cose Nell'aere Ci sono un po' di cose Nell'aere Questa qui Sembra Ora Ora nero Sta semplicemente Un po' meglio Ok Donna 4 Minaccia c6 Ma Non è una minaccetta Da niente Abbastanza D'obbligo In queste situazioni Mi piacerebbe Togliere l'alfiere Qui il prima possibile Adesso ti arriva Col cavallo Qui Me lo sento Me lo sento Me lo sento Che arriva Col cavallo Se arriva Il cavallo C'ho Il sacrificio Qualcosa Di carino Ok Una tendenza Di Christian Che vedo Già Da queste prime partite È che Tende a Trascurare Completamente L'alfiere Delle case scure In c1 Che non fa mai niente Alla fine Della fiera Sull'arrocco C'è qualche sacrificio Potrebbe esserci Tranquillamente Qualche bel sacrificio Quindi Prima di Arroccare Torre Qui Ritorno a casa Con la donna Ok Qua Penso che ci siano Anche senza calcolare Troppo Penso che ci siano Gli estremi Per sacrificare In h3 Senza Senza troppa paura Perché Perché Queste cose Vanni Perché mi fai queste cose Queste mosse Così All'improvviso Nel cuore Della notte Perché Ok Come Come proseguire Qua L'ho guadagnato Un pedone Ne vorrei guadagnare Degli altri Chi sa cosa starà architettando Cavallo Qui Donna Qui Niente Costretta Abbastanza costretta Questa mossa Su Questa Tutta la mia manovra Perde completamente Di significato Ma ok Credo di avere Comunque Una posizione Ottima Ok Di per c5 Rimangerò così E' arrivato Il momento Per lui Di mangiare L'alfiere in h3 A quanto pare No Ecco il segreto Qual'era L'alfiere Ritorna qui B4 No Però l'alfiere Se torna qui Non lo può fare Entrare in gioco Quindi È la È la Peppa Peculativa Infatti Credo che Dopo Dopo aver giocato Questa mossa Inizierò A muovere veloce E A speculare Un po' sul tempo Anche se non è Proprio Una cosa Da giocatore Di classe Ok Mi mangerò la torre Probabilmente Anzi Sicuramente E E va bene Io giocherò Per attaccare Il sole Sguarnito Infamissimo Ok Creiamoci Una via di fuga Di questo tipo Anche se Adesso c'è lo scacco Di torre Poi c'è lo scacco Di donna Che non avevo visto Assolutamente Assolutamente No Non l'avevo vista Eh già Cazzarola Doveva mangiarci la torre E cercare di Reggere Il più possibile Cattura Cattura Cavallo Qui Fiere Non lo so Cosa bisogna giocare Vediamo L'analisi Cosa dice Apertura inglese Ma no Non ho fatto L'apertura inglese Vediamo Cosa dice La fine qua La fine dice Muoviamoci Per cortesia Dice Dice RF1 Ah già Qui comunque È meno 13 Meno 13 La valuta Qui è parità Reggi 2 Questo è stato Un errore Avrei dovuto giocare Ah cavallo B6 Che pirla Che pirla Giocando cavallo B6 Non aveva più La torre Per andare E invece Ero tutto preoccupato Devo mettere in salvo Il re Che dopo questa In effetti Eh sì Eh sì Bella 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 ragazzi Alla prossima E ora per continuare Che cosa posso fare? Beh innanzitutto Ti consiglio di iscriverti Al nostro canale In modo tale Da non perderti Le nuove video lezioni E poi puoi vedere Il video Che è stato più cliccato In questa settimana Ci vediamo Ciao